Caro Virgilio, purtroppo il dolore al dente non si placa. Ho provato ad estrarlo, ma penso di aver solo peggiorato la situazione. Fra poco andrò a cercare dei farmaci e spero di tornare presto qua da te. Se non dovessi tornare, non sarà per mio volere, ma vorrei che tu sapessi cosa realmente accadeva prima che il virus arrivasse. Quando i miei genitori hanno scoperto che amavo Beatrice, non mi hanno più voluta vedere. Al paese dove abitavamo la gente mi scherniva, perché secondo loro ero diversa. Anche alcuni genitori dei miei alunni avevano richiesto un'altra insegnante, perché temevano che io influenzassi i loro figli. Mi dicevano che dovevo andare via, ma io non volevo abbandonare la mia terra. Virgilio! Cosa c'è dietro quella porta? Apri, Virgilio! Cosa c'è dietro quella porta?